Sono molto contento di essere qui oggi a vedere la svolta della rinascita, questa comunità che accoglie soprattutto dei giovani che sono stati purtroppo preda dalla droga, da questa dipendenza. Per me la droga rappresenta un cancro sociale in questo tempo che ruba la libertà a tanti giovani e che soprattutto ruba la speranza. Queste comunità invece ridono speranza attraverso anche un percorso, un percorso di vita nuova. Si chiama la svolta perché? Perché credo che questi giovani che sono qui presenti in questa comunità si pongono su un incrocio e quando sei su un incrocio devi decidere da quale parte andare e credo che loro hanno scelto la strada per la vita e grazie anche ai collaboratori di questa comunità, ai responsabili, dobbiamo sostenerli perché è un segno tangibile soprattutto dell'amore di Dio ma soprattutto anche di un impegno sociale e soprattutto dell'antimafia sociale perché chi opera in questo campo è un'antimafia sociale e la droga è un cancro sociale che ruba la libertà e soprattutto la dignità a tanti giovani. Ci riguarda tutta la comunità intera di questo territorio e che soprattutto si pone come un segno tangibile dell'impegno sociale. Ringrazio per la presenza padre Antonio Coluccio di averci dato questa possibilità di avere questo rapporto cosiddetto sociale, uno scambio di socializzazione fra le varie comunità. È chiaro che noi aspettavamo con ansia la presenza di padre Antonio Coluccio perché riconosciamo in lui quella persona che abbia le caratteristiche per portarci avanti e guidarci assieme a quelli che sono i criteri sociali. Siamo convinti che questa comunità più presto abbia le risoluzioni che si merita per un ampliamento e per portare a compimento il nostro progetto sociale e il rinserimento per i nostri giovani che abbiamo in comunità. Diamo il benvenuto alla dottoressa Grasso e a don Antonio Coluccio che oggi ci hanno onorato della loro presenza in un territorio difficile come Campobello di Mazzara. Siamo di fronte svolta per la rinascita della comunità terapeutica di Campobello, due realtà oggi messe a confronto, due storie diverse ma a tratti sovrapponibili, la storia di don Antonio, un prete coraggio, la storia di Valeria Grasso, una donna straordinaria che ha denunciato la mafia, un presidio di legalità questa struttura a Campobello. Grazie intanto per l'invito, credo che queste siano delle realtà che intanto vanno veramente sostenute, attenzionate perché chiaramente da qui si riparte, si dà la possibilità delle vite tendenzialmente distrutte, in realtà poi si dà una nuova vita, una nuova svolta. E soprattutto, dico io, mi permetto anche di dire che come rappresentante del Ministero della Sanità, importantissimo il valore e il lavoro che si va a fare all'interno della comunità, è comunque di base, bisogna fare un lavoro anche in partenza, per cui partendo dalle scuole, cercando di informare quelli che sono i giovani dei danni dell'uso di sostanze stupefacenti che forse oggi sono visti con troppa leggerezza, per cui dico onore veramente e merito a queste comunità e a chi le sostiene, a chi lavora, però cerchiamo di stare tutti molto più vicini ai giovani. Ormai da molti anni mi occupo di psicologia, del fenomeno mafioso e questo affianca il mio lavoro quotidiano di professionista nel campo della psicoterapia. Abbiamo cominciato proprio qui a Campobello a fare delle interviste di gruppo ai cittadini, in qualche modo la comunità credo che c'entri perché è un fenomeno molto interessante, una comunità che è coinvolta sia in fenomeni di mafia sia in fenomeni di tossicodipendenza. La tossicodipendenza è un problema sullo quale le mafie nel mondo stanno diventando una potenza incredibile, con un giro d'affari pazzesco e con una situazione di dipendenza molto forte che coinvolge sia le mafie strutturate che la rete degli spacciatori che loro controllano, sia un'utenza grandissima. In un mondo poco connesso, sempre più caotico e così via, l'uso delle droghe sembra, soprattutto la cocaina, sembra oggi creare ulteriori problematiche e difficoltà. Oggi abbiamo il piacere di poter ospedare a Campobello Don Antonio Colucce che è il prete simbolo di una lotta fatta contro la criminalità organizzata, nello specifico nel Salento lui ha avuto la possibilità e la capacità e il coraggio di potersi schierare contro le organizzazioni criminale mafiosa e per questo ha subito diverse minacce e sta facendo di tutto per poter portare il suo messaggio di integrazione nella nostra comunità italiana. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere l'ospite qui a Campobello di Mazzara, ospite anche di questa comunità La Svolta per la Rinascita dove un gruppo di detenuti viene assegnato a questa cooperativa per l'integrazione nella nuova società, allora quando finiranno di poter svolgere il loro servizio di carcerazione. Tutto questo perché è giusto che venga data la possibilità a ognuno di potersi fare una vita, di poter essere inserito nel tessuto sociale e quindi dargli un'opportunità che sia quella giusta per poter intraprendere una strada nella cosetta via. Io ci tengo che messaggi di questo noi ne abbiamo bisogno tutti in Italia perché parecchia gente che poi una volta finita la carcerazione viene rimessa in società, non avendo una guida, non avendo avuto un punto di riferimento, possa ritornare facilmente sulle strade sbagliate. Questa è un'occasione importante per poter dare un segnale di geliva e di spessore, anche con la presenza autorevole delle persone che stanno isolazionando e che isolazionano nella giornata, in questa mattinata, per far sì che queste persone, questa gente che alla fine hanno avuto il disagio di dover rinterprendere delle strade non perfettamente dritte, abbiano l'opportunità di poter essere inserita nella società a pieno titolo e a pieno dignità, con tutta la dignità che gli aspetta.